Oscar Marchetto, Presidente e Amministratore Delegato di Somec, la dimensione del sogno come si abbina alla concretezza che ci vuole per fare impresa? Il sogno è nient'altro che la voglia di fare qualcosa, nel senso che se tu non hai un sogno e se non hai un disegno non riesci a fare azienda, il sogno viene dall'infanzia, da quando tu avevi la voglia di emergere, la voglia di fare qualcosa e pensi e sogni cosa vuoi fare, poi il sogno bisogna mettere in realtà, perché il sogno deve essere trasformato in azienda, per trasformarlo in azienda devi trovare le persone giuste, con il sogno che è un progetto e le persone giuste riesce a fare qualcosa di buono. Il sogno l'ha aiutata a rilanciare Somec dal 2013 fino a oggi in cui sappiamo il fatturato ormai ha superato i 250 milioni? Quello sì, quello è stata una sfida perché chiuso la mia esperienza imprenditoriale nel 2013 e entrato in Somec, la sfida era quella di capire se potevo fare di nuovo un imprenditore. Oppure fare il primo dell'imprenditore, cioè la parte alta. Ho trasformato la mia capacità di ricerca e sviluppo, io ero responsabile della ricerca e sviluppo della società di prima, in un prodotto che trasformavo, creavo i prodotti, capivo cosa voleva la gente e l'ho trasformato anche in prodotto la Somec, perciò ho creato un qualcosa nel tempo in cui abbiamo creato veramente una storia che è unica. Andrea Bettini, autore del libro Non smettere mai di sognare, che vede protagonista proprio l'imprenditore Oscar Marchetto di Somec, che viaggio è stato nell'impresa per lei che è abituato a raccontarla? Allora, abituato però c'è sempre un pizzico di forte emozione, non ti nascondo, è sempre un viaggio, tu hai utilizzato questo termine perché quando si entra in una relazione molto molto stretta poi con gli imprenditori, è un momento quasi catastrofico dove loro ti raccontano parte della loro storia e tu devi avere la capacità di trasformare anche momenti, dati, aneddoti in qualcosa che poi possa emozionare. Quindi in particolar modo il viaggio con Oscar Marchetto è stato un viaggio straordinario perché ho avuto la percezione, infatti l'ho scritto poi anche nell'introduzione, di essere lì al momento giusto. Spesso i grandi rapporti di una volta andavano nei luoghi dove accadevano cose, ecco io ho avuto questa sensazione qua questa volta di essere in un'impresa dove stava accadendo qualcosa di importante e infatti quello che poi è stato scritto in questo libro si è verificato poi nei mesi successivi. Alberto Galassi, AD di Ferretti Group, re della nautica, diciamo solo un nome che è Riva, un'icona del Made in Italy, il sogno appartiene a quello che chiamiamo Made in Italy? Io ritengo che il sogno sia Made in Italy perché il sogno è italiano, noi vendiamo emozioni, tutto il mondo ci invidia, vendiamo bellezza, tutto il mondo ci invidia, vendiamo cultura, tutto il mondo ci invidia. È un po' un dovere morale che abbiamo nei confronti del nostro paese, delle generazioni che verranno di mandare avanti e di mantenere alto questo sogno, io ne sono assolutamente convinto. Noi nella bellezza, nei sogni, nell'artigianalità, nel bello, nel diverso, in quello che tutti copiano siamo un paese con dei talenti imbattibili. Prama che è un brand iconico italiano anche associato alla MotoGP. Lei cosa sogna per questa grande azienda? Io sono sempre stato fortunato e ottimista e quindi ho sempre visto anche dalle negatività l'aspetto positivo e ora per quanto riguarda le moto speriamo di vincere qualche gara che è la cosa che ci manca. Sebastiano Barisoni, giornalista, vice direttore di Radio 24, oggi si parla di sogno e di impresa. È un concetto proprio degli imprenditori del passato o c'è spazio anche per i giovani imprenditori di oggi per sognare? No, è il concetto di tutti gli imprenditori, non esiste impresa senza un sogno e mi sembra che, ed è per questo che ho accettato l'invito molto volentieri, sia particolarmente importante in questo periodo in cui siamo schiacciati da un presente continuo e quindi dobbiamo assistere e monitorare con attenzione lo sviluppo di una guerra, di un'invasione russa in Ucraina, l'andamento dell'inflazione, i costi delle materie prime. Ecco, se tu non riesci anche ad alzare la testa ogni tanto e avere una prospettiva che nel libro viene chiamata del sogno e mi va benissimo come definizione, rischi di essere schiacciato da un presente continuo, non è un bel presente, in questo periodo è un presente difficile, però un po' come nella vita normale, se tu non riesci mai ad alzare la testa e non riesci a vedere al di là di quella che è la contingenza e il giorno per giorno, chiaramente poi non riesci a trovare le motivazioni per andare avanti. Ecco perché il sogno resta una dimensione importante non solo a livello psicoanalitico ma in questo caso anche a livello economico e imprenditoriale, significa avere una fiducia nel futuro sostanzialmente.